Sì, sono tre Dove stiamo andando? Vai boh, assolutamente considera Evelynn Il problema di Evelynn è che è troppo debole early game Tu in gold non vuoi giocare un champion In gold, silver, in low elo Non vuoi giocare un champion debole early game Vuoi giocare un champion che è forte early game e scala bene Ok Il problema di Agarim è che early game non è così forte I gank non li fa molto bene Se prende Ignite, ganka male la lane Se prende Ghost, riesce a gancare bene la lane ma perde 1v1 Quindi è molto frastornata come cosa, ok? Tu vuoi prendere un jungler che riesca a stompare early game E se stompare early game riesce a fidarsi Magari anche Xinsau, Rek'Sai anche potrebbe essere ottimo in realtà Cioè forse dovresti provare anche Rek'Sai È veramente un ottimo jungler L'ho detto prima, Rengar, Kazitz Nocturne secondo me è fortissimo Cioè Nocturne non vincerà nessuno 1v1 early game Che poi in realtà non lo so sinceramente Magari mi vinci vorrei che con la Q prendi AD, la W Gli avevi una skill, la E Con la E Ma anche Jax's jungler in realtà Potrebbe essere buono, sì No, Mastery no Vai Bo Sto matchup non mi piace Ho dovuto prendere tipo Lissandra con l'Aftershock Io ho dovuto prendere tipo Lissandra con l'Atershock Perchare tipo Lissandra con la E ecco il robot side in teoria forse ho dovuto prendere cringe adesso voglio pusciare sta wave è impossibile sta cosa questo è un po più plausibile ecco bot perché non invade rexai vuole counter ci sta questa cosa io prio posso andare aiutare rexai rexai che la 1v1 ecco devo stare solo attento a non farmi neanche mid ad ecco adesso 的話 c'è c'è guardate giuseppe under rexai niente c'è 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 il c'è 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 Mamma mia che sai Oh asci guarda che kite Perché nera che kite Ha smarfata Buona ottima cosa Eh certo ma come va lo studio Non lo so ammettere un numero solo Si gioca sempre con quello anche face rush Cassio Forse qua sarebbe stato meglio face rush Sta partita sai Solo piccato di panico Sindramid è molto forte A me di Cenette non piace come champion però è molto molto forte Pezzo di merda E vabbè Qua gli faccio perdere un po' di CS extra La wave non è frizzata però Perde expert va bene Ma che staffa bot Dov'è stato detto ecco non c'ho B Dov'è stato detto ecco non c'ho B Dov'è stato detto ecco non c'ho B E dovrebbe essere Non l'ho visto più nella mappa Sto solo disattento Non ti direi che devo topside perché devo prendere tutte Le cose Quindi Proveremo a guardare topside Davvero addirittura knight Te l'ho fatto piacere così tanto Cassio Te l'ho fatto piacere così tanto Cazzo mi fa piacere Roscio scusami che cosa vi ho scritto Meglio di un porno Scusami mille Roscio non avevo proprio letto Ti chiedo scusa Facerush perché sono mid dice Facerush perché sono mid dice Scusami mille Si O Po Sam ino Molto insieme di mana. io qua non ti passo più da bro ho lost chapter quindi ho promosso favore goal perché ha low qual è che si ha fatto una cosa intelligente avete visto stava aspettando di tare ecco per non far dire fuori a tutti gli hp ok ... ... ... ... ... No, troppo importante. Lo vendo. È troppo good. Buildarla. Troppo. Salesne! Grazie mille, Salesne, 17 mesi, ribbenvenuto alle cani-cani, per ragazze del supporto. Salesne. Questo gioco si mette con il piano, me la sta mintando. No. 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 non trollato mai bent andrò di zonio a sta partita non sto capendo se sono bloccato col progetto perché guardo lo stimo e perché non lo dai in testa e potrebbe essere ambo le cose no non 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 Chiana si sta affidando di giro per la mappa We need pings Triple sash Chiana si Chiana si Chiana si Chiana Chiana Grazie a tutti Allora ho provato porca pupazza Ho provato a fare una cosa Sto rex è veramente scarso Sempre il posto sbagliato nel momento sbagliato E zira uno v2 bot Collina top Non ha flashato eh Oh si Ha flashato? Anche lui non ha flashato me sa Is the problema Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Come d'accordi allora anche oggi vengo con il giveaway, certo 3 exp, ma for real Archangel BB Ci abbiamo provato C'è il Drago, Kiana Garen è bello strong, Darius anche è bello strong Non so dove fare i Reoli Andrei sinceramente La Reoli potrebbe essermi inutile Bella C'è qua sul side, sicuro Ma tanto lo vedete in casa Eccolo Non riesce ad andare avanti i Karma di WB Due Draghi per loro La Reoli sarebbe buona Però le Andrei mi mette No, faccio rely contro quel team Slow Kiana, Slow Echo, Slow Darius Assolutamente Eccolo Abbiamo bisogno di vision Facciamo Troppe azioni senza vision Benzini a chiedermelo Forca troia Arrivo Arrivo E penso doveva ulti up Ma questo che dovrò Intuito tutti Lol No, 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 no Questo qua Questo dovrò fare morello Arrivo a Darius Una d'altro qui Ok No, 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 no Excel molto Reksae non ulta 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 Eh, ho seguito su tre Però chianastro Noi quindi non abbiamo fatto Free damage Dobbiamo giocare con le frecce di Ashe sai perché calma metta buona visione top side io non c'ho né questo né questo non so quanto sia buono federe adesso sinceramente credo che non sia per niente buono federe adesso in realtà per niente buono non siamo proprio in una buona situazione in una buona 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 ok metto visione top side giochiamo top side giocare top side vuol dire comunque restare mid ma giocare sulla sponda top side in modo tale che se loro franchino da qua possiamo scappare verso di qua da qua Grazie a tutti Grazie a tutti Nice game Ash ha fatto delle bellissime frecce Bella Rex ha fatto proprio schifo Cioè Client è risorto? Ok Onoriamo Garen che ha fatto un'ottima partita Tornati in promo Grazie a tutti